Ciao ragazzi, bentornati su Gim Boom Bam, giochi per bambini Oggi è una bella giornata di sole Mascia e Orso infatti aspettano degli amici a casa loro Per arrivare però a casa di Mascia e Orso bisogna attraversare un ponte E poi, chi saranno questi ospiti che aspettano Mascia e Orso? Ma ecco che sta arrivando il primo Ah, ma è Peppa Pig, la loro amica di sempre Passa il ponte e arriva dai suoi amici Ben arrivata Peppa! Ciao amici miei! Ma ecco che arriva qualcun altro E' George! Certo, con questa bella giornata di sole tutti vogliono uscire E così anche George arriva dai suoi amici Ed ecco un'altra amica E' una vera festa Adesso un po' alla volta stanno proprio arrivando tutti Che meraviglia! Ciao amici! Che bello essere tutti insieme! E tutti insieme in questa bella giornata di sole faranno una bella festa Ciao amici! Grazie a tutti.